In questo mondo di volti e parole, giorni cantati splendenti nel sole, ho incontrato angeli e fango, temporali e tempeste, diavoli e lampo. Sono Massimo Priviero, anch'io sostengo la campagna del primo Nobel ad ICANN e se devo dire quello che penso sul nucleare, va beh, fa parte della mia vita, della mia storia, delle mie anche giovanili battaglie quando avevo intorno a vent'anni e quando ci fu quello che ci fu a metà degli anni Ottanta. Quindi da Chernobyl e tutto quello che ci va insieme. In generale penso che invece dovremmo lavorare e spingere molto sulle energie alternative, sulle energie pulite, ma mi rendo conto che sto dicendo una cosa abbastanza scontata e diffusa. Però è effettivamente un sentimento o pensiero che ho dentro di me e che quindi mi fa piacere di condividerlo. Per il resto qualunque battaglia e qualunque impegno volto comunque ad un mondo più giusto rispetto a quello che viviamo è ovviamente condivisibile. Qualunque battaglia e qualunque impegno al fianco della parte debole del mondo è condivisibile ed è spendibile. È una cosa che c'è anche molto nelle canzoni che scrivo, è una cosa che cerco di far arrivare insieme alla forza e insieme all'energia ai miei concerti. E quindi un grande abbraccio, a presto e rimanete con noi. In questo mondo di volti e parole, giorni cantati splendenti nel sole, ho incontrato angeli e fango, temporali e tempeste, diavoli e lampo.